8 del mattino, 0 gradi e tanti lavori da fare Significa solo una cosa ragazzi Al Monza Pizza Bike Park c'è lo scavatore Quindi è ancora arrivata la bestia Arrivata la bestia, vediamo se funziona Siamo qui in montagna a fare i lavori Il salto che vedete alle mie spalle è il cosiddetto salto del mulch È il salto che noi utilizziamo per provare le nuove evoluzioni a queste tre rampe, a queste distanze Ed è rimasto tale quale dal 2015 quando abbiamo costruito il park Vedete sapere che in realtà la terra non rimane uguale, identica negli anni Perché tra pioggia e il peso stesso della terra Tutti i mucchi che mettete giù si abbassano piano piano Lentamente nel tempo si schiacciano ancora di più È successo per tutte le cose del park Ma in particolare è successo per il salto in mulch Perché è il salto che copriamo di meno, è quello che prende più acqua Quindi si è abbassato a tal punto che ormai l'atterraggio è alto come le rampe Cosa sbagliatissima nel door jump perché di solito l'atterraggio deve essere un po' più alto delle rampe E voi direte ma perché devono essere più alti gli atterraggi? Perché immaginatevi la curva che si disegna quando si salta Si va prima su poi giù ovviamente Se la parte di caduta è rilevante in un salto Voi quando atterrerete prenderete una bella botta Invece se avete tanta fase di salita e poca di caduta Il salto rimane più sicuro diciamo Perché avete comunque il tempo di fare le vostre evoluzioni in aria Ma poi in fase di caduta c'è poco tempo per prendere velocità e più schiantarsi sul terreno Questo trucciolato di legno ha proprio la funzione di cuscino ammortizzante nel caso di caduta Non è che sia morbido cadere sul mulch Se la ti risecca la ti risecca anche sul mulch Però è una via di mezzo tra airbag e salto di terra compatta Praticamente questi ragazzi Sono delle larve È pieno qua Di una, due Facciami vedere Sono dei cagnotti In faccia Che schermo Chiamo al WWF Sta lanciando i cagnotti Comunque dentro il mulch Per chi non lo sapesse Sono sempre stati questi vermozzi giganti Si riempiono di mulch finché non esplodono In realtà non vi ho ancora spiegato qual è il lavoro che dobbiamo effettivamente fare Vi ho detto che dobbiamo alzare l'atterraggio del mulch Perché si è abbassato nel tempo Però in realtà lo porteremo avanti Lo porteremo a livello con l'atterraggio della linea grossa Quando si atterrava adesso c'era il problema che ogni tanto si andava a sbattere contro questa parete Ecco vogliamo metterlo a livello con questo In modo tale che così non c'è più questo problema Allora ragazzi è arrivato lo scavatore Ce l'è salito Mauro E incominciamo a lavorare di brutto Vai Neve Tira giù il castello Ecco a voi ragazzi cosa rimane del bonerlog Tranquilli Lo ricostruiamo un uovo di zecca Però più avanti Carichiamo l'alboreto allora Doppia travata Alcune travi ragazzi le teniamo di scorta perché non erano appoggiate a terra E vi sarete chiesti dove prendiamo la terra per alzare appunto l'atterraggio ecco Il vecchio quarter che ormai era distrutto e l'avevamo anche smontato da un po' Tutta questa terra la utilizzeremo per alzare il mulch In grandire tutto l'atterraggio Fare un bel atterraggio safe Di quelli proprio che ci piacciono Aspetta che ti aiuto Adesso l'alboreto provasse uno dei suoi fenomenali 360 Come atterresti da un 360 qua Aveva un'aria diversa stamattina Nella giornata di oggi praticamente il Mauro ha spostato con grigio tutta la terra che c'era sul quarter qui Ancora da spostare ancora bisogna lavorare Però dopo una giornata siamo già a buon punto devo dire Soddisfatto e rimborsato Ma mai rimborsato niente di nessuno quindi deve essere soddisfatto per forza Secondo giorno al park diamo la forma all'atterraggio In realtà Mauro non è mai apparso così tanto sul mio canale Ma per chi mi conosce dagli albori sa che io e Mauro siamo stati fedeli compagni di riding per un sacco di tempo Anzi in realtà è proprio grazie a Mauro e alla compagnia con cui giravo allora Che ho potuto iniziare a viaggiare e vedere i primi bike park E io e Mauro eravamo quelli salterini nel gruppo Perché tutti gli altri facevano DH, un po' freeride, giravano in bike park Però io e Mauro, trick, cartelle, secche Secondo me girando con Mauro ho proprio imparato a trovare i trick direttamente sul duro E fare della caduta non solo una cosa sbagliata ma in realtà anche quasi un divertimento Eh, vuoi prendere il suono Hai qualcosa da dire al tuo pubblico? Che è... Che è... Siccome in tantissimi mi chiedete consulenze sulla costruzione di nuovi bike park o rampe Però io non ho assolutamente tempo di fare anche questo Ragazzi il buon Maurello è proprio specializzato in questa cosa Quindi se avete bisogno di un professionista che vi faccia il lavoro Vi lascio in descrizione tutti i riferimenti di Mauro e della sua nuova pagina Massive Construction Ma nel frattempo è venuto buio anche in questo secondo giorno di lavori Siamo veramente a buon punto La posizione dei salti rispetto a come era prima è cambiata ovviamente Adesso tutto sulla destra abbiamo il mulch grosso Mulch piccolo in centro e Bonerlo sempre tutto a sinistra Gli scarponcini per andare in bici è la cosa più scomoda della terra Eh buono, è buono, è bello, è bello, bello Il piano è il problema per adesso C'è tutto il pianetto che è proprio blu 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 Abbiamo fatto la barriera di contenimento E' giunto quel momento di far diventare un piano il park Ragazzi siamo alla parte di finitura Abbiamo quasi concluso tutto qui Sto facendo il fianco dell'atterraggio Qui abbiamo un neve che con la jeep ci sta schiacciando tutto E' la svolta del Montapizza La svolta! Si è riusciti anche a mettere l'erba sintetica dopo questa giornata Lunghissima di lavoro Tre giorni per prendere e modificare completamente il mulch E' Mauro sei soddisfatto? Yes 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 I am Yes Non l'ho fatto entrare in park apposta L'ho bloccato qua C'era il bodyguard C'era il bodyguard che mi ha bloccato Segui me Mi hanno montato la bici Dove cazzo sei? Dove cazzo vai voi? Eh non lo so Mi hai fatto salire dritto Un po' più avanti Un po' più avanti Sei pronto? Apri Oh la madonna zio cane Complimenti sti gran cacchi Sti gran cazzi Mi viene quasi voglia proprio di cartellare Di infilarmi di testa dentro Oggigiorno di testa ragazzi Finalmente siamo protezionati Test ufficiale col mulch Perché noi alla fine l'abbiamo provato Però adesso senza mulch Ah vai trenino di apertura sul piccolo Ah va bene Mi c'è adesso si va sul grosso Ma anche lì subito 3.6 3 alla prima lo devo fare È soltanto che devo pedalare bene forte Perché è lento lì sotto Buono È molle il piano di brutto Ma però è bello eh Come è la prima volta Guardate che vi avviso Il piano è veramente rallenta tanto Fidati dai Una e una in piano decise Guarda lì Questa basta Alla madonna Ma dove cazzo sei andato È arrivato Quello giusto Quello piccolo a destra Parti senza pedalare come prima O un po' e sono di là Sì di là E Jager Muti Guarda lì Buono Guarda basta Sulla madonna Ah cazzo è neanche morto No eh Ma ti senti anche bloccato Usato C'è il mulcio che non è accanto così Ringrattiamo il malci Grazie malci Oh bravo Guarda l'altro Guarda l'altro È l'ora Guarda l'altro È l'ora È l'ora Primo flip sul Mulch Grande Nella storia del nuovo Mulch Grande Eccolo, eccolo Eccolo È stato inaugurato Hai tagliato il nastro Mauro Il grosso è migliorato tanto Il brutto sì Pensate che è diventato più grosso Però è più safe ancora Devo provare il transferino là Non è piccolo È lungo Non è piccolissimo Si è allungato in realtà il bastardo È lungo Forse un pelino Troppo corto così Ma in realtà quando c'era il landing più indietro Perché ovviamente con i lavori l'abbiamo spostato avanti Si arrivava a fare il transferino Adesso mi aspettavo di sì invece E no Può essere anche che si è bagnato lì in mezzo E si arriva un po' piano Quindi magari quando è un po' più asciutto Si può riprovare Però è lungo ragazzi Non è per niente facile Però meno male Perché così non è che c'è tutto subito Avete la pappa pronta Mi spiace Vabbè ragazzi Io direi che Questo video l'abbiamo già tirato tanto in lungo È quattro giorni che filmo Per il rifacimento di questo mulch Direi che È venuto veramente fighissimo Sono super soddisfatto E veramente un grazie enorme a Mauro Che è incredibile Ha mosso tutto benissimo in quattro giorni Una quantità di terra spaventosa Ha fatto il lavoro perfetto Meglio di così adesso è super safe Possiamo sendare un botto di trick Speriamo soltanto che si asciughi un po' Durante questo inverno Se vediamo Ano prossimo Video Ciao Cosa c'è Io non sono in difficoltà come il master Anzi